Numero 10 Allora qui con me vicino c'è Giorgio Caputo che prima è stato ricordato solo come attore del romanzo criminale ma io voglio ricordare anche come regista che è stato anche premiato come diciamo showman nell'orchestraccia, come calciatore per il momento infortunato nell'essere romartisti Giorgio, ci vuoi parlare dell'esperienza tua con l'essere romartisti? Ma insomma sì, è un gruppo di amici che si è trovato attorno alla fede calcistica per la Roma e siamo tutti appartenenti al mondo dello spettacolo in vesti diverse e per questo poi ci chiamano per fare delle partite di beneficenza o comunque per degli eventi importanti come questa e questa occasione qui a Ceccano e è sempre bello per, insomma, grazie alla professione che facciamo per poter fare delle cose che insomma siano per il bene degli altri Come va la caviglia? Recupererai per oggi o per la prossima settimana? Ma sì, penso che per oggi la mia partita è finita al terzo minuto e purtroppo siamo entrati, siamo arrivati tardi quindi non abbiamo potuto scaldarci il campo è un po' dissestato quindi un contrasto di gioco, ho storto la caviglia e meglio non... Rimani a riposo dai Rimango a riposo, ora vado a farmi la doccia Grazie Giorgio, scusa il disturbo, buon proseguimento Grazie a te, grazie a te Ciao